Papà, chi è quella signora che sta qui con noi e che rassomiglia tanto a mamma mia? Sai, oggi mi ha pettinata e mi ha detto che sono bella, ma è un'altra mamma? La mia botte è riuscita a sorella e mi ha detto che sono bella, ma è un'altra mamma mia? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.